Via Biondi pericolosa con l'erba alta e il manto stradale al limite della praticabilità. La via è la parallela alla statale 80 che porta nel quartiere di Colle a Terrato, a Teramo, e che da quando è chiuso il tratto di statale nei pressi di Villa Pavone per i lavori dei sottopassi, per l'eliminazione dei passaggi a livello, è diventata la principale via di transito da e verso il mare. A denunciare la pericolosità della strada sono sia gli abitanti della zona che gli automobilisti. Soprattutto nelle ultime settimane, anche a causa della pioggia, l'erba è diventata troppo alta in prossimità della rotonda, limitando la visibilità dell'incrocio e creando disagi, soprattutto a chi non conosce la strada. Poi c'è il manto stradale fortemente compromesso dal maltempo e dal passaggio dei mezzi pesanti. In un tratto di via Biondi, come vedete, c'è un vero e proprio smottamento che peggiora a vista d'occhio. In attesa della riapertura della statale 80, è fondamentale per la sicurezza, intanto, lo sfalcio dell'erba e poi intervenire anche sul manto stradale. Via Biondi è solo un esempio delle tante strade terramane che fanno i conti con l'erba alta e con buche e avvallamenti. In alcune zone c'è poi il problema della scarsa illuminazione notturna. In via Tevere, da giorni, l'illuminazione pubblica non funziona proprio. Lungo la strada ci sono anche alberi non potati che sono diventati pericolanti. L'appello dei residenti è alla nuova amministrazione affinché intervenga per ripristinare al più presto l'illuminazione.